Ando a mia stagione 1 e siamo all'ottavo episodio ragazzi, in questo episodio renderemo probabilmente la Germania, ve lo dico. Eccoci qua, io voglio invadere. Allora, devo incircare. Oh signore, a questo termine. Io direi di carare guerra agli sveeri, così almeno avremo un controllo della sveglia. Sera è infatti già un altro principato, se vi dite perché, il nostro vittore è conquistato tutto, lo sapete. Quindi noi, in questa parola, cioè in questo modo, si è più spagnolo. Allora, vi frattete che noi abbiamo grandi territori, se lo vediamo, non so, non è raffreddato. Uh! Adesso vediamo ancora un po' di più bravi. Questo è il bravi, io ci sono un paio. Ottimo. Aspettate. Andate. E' già raga. Abbiamo un vaso. Beh, ci stiamo spandendo. Io non ho sempre di più. La presa di tutto il Brasile è vicino, raga. Quindi, già. Nel prossimo, ce l'ho fatto un'altra volta, però... Una preparazione all'assettura. Ma, già. Ma il mio piano di invasione dell'Inghilterra, questa volta, sarà un po' diverso dalle altre. Delle altre classi di invasione. Ah, vabbè, la Bohemian. Adesso, in realtà, non c'è la Bohemian, sì. Con probabilità, dopo la Baviera, tocca la Bohemian. Perché, comunque, la Baviera, credo, è in vadela. Spiegami, dov'è? Ah, non ho preso la Baviera. Da di parte di queste semane su Romano e Inghilterra. Non ho preso la Baviera. Vai. Vai qua. Vai qua. Vai. Vai, vai. Vai qua. Eccoci qua. Mi ha preso anche tutta la Baviera. E' uno dei primi principati andato. Quindi, già l'ha preso. E' uno dei primi principati andato. E' uno dei primi principati andato. Qua. Eh. Qua. Ecco. il nostro capitale, nostro stupido principale, non ha mai avuto un triceto nido che ha avuto un triceto nido che ha avuto un triceto nido che ha avuto un triceto nido e, beh, direi che la vittoria è praticamente il nostro triceto nido nella sua capitale, questo stupido principale in realtà io non me lo volevo trovare la sua terra però lo sento che me l'ho portato per conquistarlo quindi già mi stiamo già a prendere i piccoli stadi in Germania sono cattivi cioè noi che sono cattivi cioè non è che sono cattivo è che io non ho voglio prendere il sacrumone però quindi anche il nostro stato quindi, cioè, capite oh, la mansovia ci sta ribancando perché ha acciruzzato la bohemia cioè mi ha preso un po' di bohemia adesso però noi adesso mettiamo la prima alla bohemia piccola prima non lo era ora un po' ora lo è la povera Repubblica Cera ora mi ha messo a vedere bravo sono la terra più importante bravo allora una buona io farei fuori io farei fuori non ha senso così potrò non essere fedele comunque fidatevi prima o poi forgeremo la parola fino al al regno di Merlin cioè insomma il sultanato di Merlin fidatevi prima o poi gliela daremo la parola va bene però guardo tutti e due così crolla la vostra lens vai 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 beh abbiamo anche invasato finalmente completato l'opera dell'Austria nello scorso episodio non l'invase perché beh io prenderei questo anche io prenderei la parte del marsale quindi già adesso con le nostre truppe ma poco qua ne mandiamo 400 adesso dobbiamo vai che vinciamo vai no fatto fatto beh 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 tra tretto beh perché portugallo ha comunque curiosità sapete che il primo nome di New York era New Amsterdam come si pronuncia insieme alla capitale dell'Olo cioè la conosco ma non la so pronunciare è bello bello a Brabante mi ha dichiarato guerra è stato presso un vero sì ma ah era alleato ho capito bello noi intanto vogliamo vedere acquistate ed espandiamo le nostre colonie visto che abbiamo messo i soldi e siamo vecchi e abbiamo fatto e abbiamo fatto ecco beh 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 il mio il nostro obiettivo è espandosi è possibile quindi ed questo è un piccolo stato tribale mi dispiace ma è così dispiace ma purtroppo è così beh un nuovo fronte aperto dai vedete wow austro e e godo 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 e blisco vai 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 e beh raga questa guerra è un po' cilena comunque sono le porte della capitale non penso che è un po' 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 assi c Matthew l'è un po' la il è un po' è un po' un po' Sì, sono fai, sono tredici, vado a sbrigare, facciamo fuori veloce, vai veloce, torno di passato, torno di buona parte, bandato, vai, vai, figlia, figlia, e tu, 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 tu. Beh ragazzi, ok, beh, raga, allora, vediamo le ultime cose, allora, io direi che il video può finire qua, ci siamo dispensi tantissimo, e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.